Chi è Sant'Antonio? Perché la gente lo prega? Carissimo Sant'Antonio, ho imparato a conoscerti l'anno scorso. Ricordi? Sant'Antonio è stato il grande santo della parola, ma prima di annunciarla l'ha vissuta. Caro Sant'Antonio, ti voglio tanto bene. Come va la vita in paradiso? Siamo cuore per il mondo. Un cuore di pace, un cuore di condivisione, un cuore di gratitudine a Dio. Caro Sant'Antonio, non ne posso più, sono esasperato. Ha condotto gli uomini a Dio. Caro Sant'Antonio, l'anno prossimo Michele e io ci sposiamo. Stacci attento. E guardare Sant'Antonio, il corpo di Sant'Antonio, i resti mortali di Sant'Antonio, come se lui fosse presente e fosse vivo. Caro Sant'Antonio, faccio un altro tentativo, un'altra preghiera a te per mia figlia. Falla uscire dall'incubo che è l'anoressia. Oggi si direbbe santo subito. Caro Sant'Antonio. Caro Sant'Antonio. Ti voglio bene.